Gare quaddisti, Nicolás Agosti, primo posto QX2, prima volta di Nicolás Agosti sul gradino più alto del podio di giornata e oltretutto primo posto in gara 1. Grande Nicolás, ci credevi? Speravo. E dentro il tuo casco dopo una partenza arrembante e un allungo sugli avversari, cosa ti dicevi tra te e te? Che se la posso veramente fare e alla fine ce l'ho fatta. Come sono stati i giri davanti? Belli, stupendi, quelli lì sono sempre migliori, però dopo ho preso una brutta botta sulle Vups e ho ceduto, però ho lasciato passare i due dietro di me, giusto per non rischiare di farmi male. Sono andato via tranquillo e alla fine è il primo posto. E che non è di più difficile fare come punteggio totale di giornata, oltre al primo gradino non c'è niente Nicolás. Ascoltami, quindi aggressivo, abbiamo passato questa prima esperienza di vittoria, per le prossime gare un Nicolás Agosti ancora più convinto di sé, ancora più pronto per aggiudicarsi la all shot? Penso proprio di sì. Nicolás, i nostri complimenti, complimenti a te, complimenti al tuo team e un arrivederci alla prossima competizione del campionato italiano. Grazie.